Ha sbattuto la testa al muro e ha perso i sensi dopo essere stato colpito con un pugno in faccia da un detenuto. Ennesimo episodio di violenza nel carcere della Dogaia. La vittima è un assistente capo che ha avuto bisogno di diversi punti di sutura per ricucire la ferita riportata al capo. È successo nei giorni scorsi ma solo ora se ne ha avuto notizia. Protagonista dell'intemperanza un detenuto albanese che già la mattina aveva alzato le mani contro un altro agente che a differenza del collega che è stato dimesso dall'ospedale con un prognosi di sette giorni se l'è cavata con contusioni alle mani giudicate guaribili in tre giorni. L'ultimo fatto violento è avvenuto nel reparto colloqui. Al termine dell'incontro con i familiari il detenuto senza nessun motivo ha dato un pugno all'assistente capo che colto di sorpresa ha fatto qualche passo indietro sbattendo la testa contro il muro prima di cadere a terra privo di sensi. In suo soccorso sono subito intervenuti i colleghi e i medici che lavorano alla Dogaia e che hanno provveduto a saturare e medicare la ferita prima del trasferimento al pronto soccorso. Il detenuto con un trascorso nelle carceri minorili arrivato da pochi mesi alla Dogaia non è nuovo a episodi simili tanto che in passato era già stato sottoposto ad isolamento per motivi disciplinari. Il sindacato alza di nuovo la voce e denuncia le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria. Ancora una volta scrive in un comunicato il sistema di gestione della casa circondariale di Prato risulta fallimentare. Nonostante le proteste messe in atto dalle organizzazioni sindacali nulla è cambiato e avvicendato il direttore dell'istituto la situazione non sembra ad oggi migliorata. Il sindacato non manca di sottolineare che le tante promesse fatte dai vertici regionali per portare rinforzi e sicurezza sul lavoro risultano purtroppo ancora in evase.